Sono l'onda? Consigli per gli acquisti Consigli per gli acquisti Allora, la farina di raucia questa farina ve la consiglio perché ragazzi, farina macinata in mulina acqua e a pietra pensa che quando c'è la siccità non macina farina di grano tenero questa è di grano tenero, macinata zero vediamo, io ragazzi comprate la pintale da Simone Raucia, la farina non è riuscita Consiglio per gli acquisti, vai, stacca e